Un saluto a tutti e bentornati su Zenith Factor E eccoci su The Witcher 3 Wild Hunt Siamo a Kaer Moran E stiamo per spezzare la maledizione di Yuma Adesso preparare solo ingredienti necessari E preparare dei cotti di erbe Per poi liberarlo dalla sua maledizione Grazie Grazie Vesemir? Hoekweed extract to deaden the pain I know done this before Escol Make the incisions in his veins Insert the tubes Geralt place the potion vials in the feeders Ready Open the valves It doesn't matter in which order Nippon Minas Minas Yes It doesn't matter in the midst of the killings If it didn't, Pain would have sent him to the drogue and killed him So, everything is going smooth? No But they're within the norm No If it didn't, Pain would have sent it in the pit Administra la prossima potenza. Gerold, la prossima potenza. Mamma mia. Oh, derrido. I need potenza to do their work. Might take a day, might take more. You need only wait. True. But I must maintain the stabilizing spell. Uma's body is not nearly as resilient as a young candidate witcher's. Without this, he- Yes, he fought. Escal, I'm sorry. Would you mind? Getting some rags on it. I can't believe we're doing this. Wiping vomit off the floor? No. A trial. That's Siri in there. She could come out of this cripple. Wrong in the head. Just emotionless. Thought about that? I trust Yann. She knows what she's doing. Don't doubt that. But do we know what she's doing? She tell you how likely this is to work? Gentlemen, the floor's as clean as it'll ever be. And I need to be wiped down as well. No offense, but I'd rather Geralt did it. Understood. I'd prefer that too. Ha 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 ha. That normal? Yes. Uma's body is disintegrating from the inside. Once that's complete, we'll need to reform it. Or you'll die. You witches were given mutagens. They will use spells. Hey, Yann. You're dozing off. No. I'm just... resting my eyes. Yeah, it's called sleeping. Then do something to keep me awake. Pinching's apparently effective. Hmm. Later, perhaps. For now, talk to me. Tell me a story. Heard about the time Siri and I went ice skating. No. Not that I recall. The winter she trained here. A couple months in, she started complaining I was too harsh a teacher. Brushed it off at first. Then she asked me to go skating with her. Didn't really want to. I'd never been before. But she insisted. As soon as we hit the ice, she started skating circles around me all the ring. No, not like that. Footwork. One, then the other. Crossover. No, wrong. Break with the heel of your skate, not the toes. Needless to say from then on. He's awake. It's time. Time to lift the curse. Prepare the phylactery. Neat it up. Ah 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 ahah. Aia. Anri your god. I'm not. Samir. Kowal. Arriva. M16! Ombia! Non... Non, non ti lascio mai! Gero, Gero Blasch, nella mia satchel! Quiet, ascolti! Ah, che succede? Non ha spostato il suo spirito, no, ha spostato la maledizione, questo chi è? Non è Siri, no, chi è? Non è Siri? Sì, no, 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 no. Sì, no, 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 no. Non abbiamo fatto la scuola per giocare riddles con te. Hervain, Arvain, Serain. E' lo scelago, segui in le foglie, balicera, balicera balicera! L'ho cercato per proteggerla, ma la scuola è la scuola. Garot, non ha trovato l'isola, ancora. È un'attesa di tempo. Certo, Garot. Non è ancora libero da l'escrizione di morte. Ora, andiamo. Ora, andiamo. Guardare a Ciri. Holder, non pensi che non ti dico alcune risposte? Come sai questo, Avala? Cosa ha fatto Ciri con lui? Yennefer può dire. Solo guardare a lui, non è un amico. Potremmo non, ma Ciri apparello ha confiato a lui. Poi dovremmo prendere la loro parole. Certo. Hai ascoltato cosa ha detto? Prendete a Ciri da quella isla di mists, e la cinta prenderà l'escrizione immediatamente. Cosa poi? Cosa è la vostra consiglia? Ciri non può fuori per sempre. Un giorno, lei si tratta. E non avrà una seconda chance. C'è tempo che noi, la cinta, diventiamo la cinta. La cinta è l'escrizione, che loro si tratta. La cinta, diventare. Ci attacchiamo a trovare noi per sorpresa, e sanno veciare assicurati. Lì noi staviamo a lo farlo. Loroade loro, noi cinza... Siamo in un castello riscone. Ci abbiamo una nuova? Diciamo subito sul recchiere dell' diffévole? Cosa prendere altri, o più di altri, che vedano le植ire una maggiore. O prego maggiore. oh man fine i'll get siri and recruit some allies bring everyone here got a few favors i can call in any good looking women in that batch exclusively and you what do you plan to do i've avila to care for he's certain to die without gentle gradual magic treatment there's hope if i help them not much but better than not the boys and i'll consider how we should greet our uninvited guests all right time i was on my way good luck wolf and give cyrilla our love come back quickly ok ok allora ragazzi per questo video è tutto intanto io cercherò amici che possano aiutarmi a sconfiggere la caccia e poi andremo insieme a schellige a recuperare siri per questo video è tutto spero vi sia piaciuto un saluto a tutti e al prossimo video di the witcher 3 che terzie a tutti un saluto a tutti Grazie a tutti.